La signora Rita Del Bono sommariamente vi presenterà le origini di questa signorile riserva. Sentiamo dalla sua voce. Siamo nella zona del Cremonese, sul Po. La riserva è praticamente attiva dagli anni 40 e è di proprietà della famiglia della Zoppa da generazioni. Siamo in una zona tra stagno lombardo e piedi dolmi dove c'è una vegetazione molto mista per cui si possono trovare molti tipi di animali, fagiani, starne. Direi che si può trovare tutto quello che si desidera anche per il lavoro con i cani. Ma andiamo in là. Ma andiamo in là. Siamo in là.